Non dimentichiamo che sono quasi quattro mesi che lavoriamo duramente, perdere tante partite, anche se noi sappiamo qual è la nostra realtà, qual è la nostra dimensione, sappiamo che dobbiamo lottare sempre così in questo modo e oggi la reputo sicuramente soddisfacente per carattere, perché siamo stati sempre in partita, anche negli errori che ci sono stati, anche nelle difficoltà, perché Elen è una buonissima squadra, forse loro pagano la panchina un po' corta sui reparti dei terzini, Noi oggi avevamo qualche campo in più e questo ha permesso anche a chi in quel momento sta facendo troppe errori di riposarsi e rientrare più fresco, abbiamo fatto buone rotazioni e per noi era vitale cercare di sbloccarci un po', di fare i primi due punti, come ho sempre detto anche precedentemente, ci sono le squadre che navigano in alta classifica ma le altre fanno fatica a fare punti, Dunque anche se abbiamo perso fino ad oggi, abbiamo perso tantissime partite, ci troviamo lì a ridosso, dobbiamo crederci sempre, ai ragazzi mi è piaciuto il fine della partita che ha mostrato una grande unità, che proprio non sembrava una squadra in difficoltà con tante partite perse, moralmente erano su, con grande spirito, coraggio, hanno esultato e questo mi fa solo che piacere, perché ci dà la forza di continuare a crederci e a lavorare seriamente. Grazie a tutti.